E questo mi porta anche al tema del rapporto tra la migrazione illegale e i rischi anche per la sicurezza legati agli attentati che abbiamo visto in questi giorni. Guardate, io non penso che sia irragionevole o che sia ideologico, come pure è stato detto, dire che può esserci un nesso tra centinaia, migliaia di persone che entrano mediate dai trafficanti di esseri umani e il rischio che vi siano anche infiltrazioni fondamentaliste o jihadiste. Io penso che sia piuttosto irragionevole e ideologico negare che quel nesso possa esistere, a maggior ragione quando ne abbiamo avuto prova, a maggior ragione quando siamo consapevoli che in passato è accaduto. E guardate, non si risolve, ovvero non si rende la questione più digeribile dicendo ma in buona parte dei casi chi si è reso responsabile di un attentato in Europa era qui da diversi anni. E' vero, è vero e mi porta esattamente a quello che stavo dicendo prima e cioè che se alle persone non puoi garantire una vita dignitosa, se pensi che sia solidale farle entrare e poi lasciarle ai margini della società, a vendere droga, a doversi prostituire, a non avere niente, matureranno anche certo a volte un odio nei tuoi confronti.